Salve amici del Centro Metro Italiano, ultima parte di gennaio con clima freddo e altre occasioni di neve. Vediamo allora l'evoluzione con gli ultimi aggiornamenti. Situazione sinottica che vede una vasta sacca d'area fredda in quota sul Mediterraneo centrale, con tempo localmente instabile e clima piuttosto freddo per l'Italia. Tra mercoledì e giovedì possibile formazione di un nuovo minimo di bassa pressione sulle regioni del sud, con maltempo e neve a quota medio-basse. Allo stesso tempo entro il prossimo weekend sia il modello GFS che l'europeo ECM WWF mostrano un nuovo aumento del freddo a causa dell'area artica con possibilità di neve a bassa quota soprattutto sui settori adriatici. Per gli ultimi giorni di gennaio grande incertezza, ma ancora probabile, un blocco di alta pressione sull'Atlantico e correnti fredde in discesa verso il Mediterraneo. Data l'incertezza dell'evoluzione seguite però tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.